Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Il maltempo, le nevicate e il gelo intenso sono ormai un ricordo sul nostro territorio. Infatti una rimonta anticiclonica caratterizzerà le prossime giornate, sebbene saranno ancora caratterizzate dal freddo. Infatti la presenza di questa circolazione depressionaria che ha portato tanta neve nei giorni scorsi sul nostro territorio si è ormai allontanata sui Balcani, però pilota ancora dell'aria piuttosto fredda in direzione proprio dell'Italia, portando un generale raffreddamento delle temperature però con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Infatti la grafica ci indica una domenica con bel tempo ma anche dovuto alla presenza di neve al suolo avremo un clima decisamente freddo, oserei dire gelido, al primo mattino dove le temperature scenderanno di molto sotto gli zero gradi. Come andrà la prossima settimana sul nostro territorio? Vedete anticiclone che caratterizzerà gran parte della settimana sul nostro territorio ma indicato un anticiclone abbastanza freddo. Infatti continueranno ad affluire correnti fredde provenienti da est proprio alimentati da questa circolazione anticiclonica che da una parte porterà cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la settimana ma ancora temperature molto molto basse soprattutto nella prima parte della settimana dove anche sull'alto piano di Cluseone potremo raggiungere i meno 7-8 gradi come temperatura minima. Ma andiamo con ordine vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio. Nel corso della giornata l'afflusso di aria più fresca più proveniente da est porterà quelle classiche nuvole medio basse sul nostro territorio proprio dovute all'impatto di quest'aria fredda che si addossa lungo i nostri crinali orobici. Quindi via via avremo qualche nuvolamento sul nostro territorio in un contesto decisamente invernale farà molto freddo con uno zero termico prossimo al suolo anche nelle ore centrali della giornata quindi anche sull'alto piano di Cluseone le minime saranno intorno ai meno 4 o meno 5 gradi e massime che faticheranno ad andare oltre gli zero gradi. Ho indicato qualche nuvola bassa al primo mattino nella zona della medio bassa valesteriana del lago di Seo dove qualche foschia densa o qualche locale banconi debbia potrebbe formarsi proprio al primo mattino e nottetempo. Evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana che vede una lunedì caratterizzato da qualche nuvola di transito sul nostro territorio ma con una pressione atmosferica indeciso rialzo sintomo proprio del bel tempo della stabilità atmosferica ma con temperature molto basse vedete minime a Clusone intorno ai meno 6 gradi e massime non superiore ai 3-4 gradi con uno zero termico che nelle ore centrali della giornata si posizionerà intorno agli 800 metri di altitudine quindi sopra tale quota saremo proprio in una giornata di ghiaccio. Martedì, martedì ancora cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con temperature in lieve rialzo comprese fra i meno 2 gradi di minima e i 5 gradi di massima con uno zero termico in rialzo a 1100 metri di altitudine comunque ancora una giornata molto fredda così come quella di mercoledì dove un nuovo impulso di aria fredda ci raggiungerà portando temperature molto basse al primo mattino meno 7-8 gradi sull'altopiano di Clusone e massime vedete non superiore ai 3-4 gradi. Giovedì invece l'anticiclone via via lascerà posto a un afflusso di aria un pochino più umide ma anche un pochino più calda infatti vedete come le massime guadagneranno qualche grado avremo ancora minime molto basse intorno ai meno 4-5 gradi ma massime che si porteranno ben sopra gli 8 gradi con un clima un pochino più umide anche nelle ore centrali della giornata e così andrà anche venerdì con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso uno zero termico anche in rialzo a 1500 metri di altitudine e temperature che guadagneranno qualche grado ancora nelle ore centrali della giornata con massime che a Clusone potrebbero raggiungere anche i 9-10 gradi. e per il mezzo è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.